Convertirsi alla passione missionaria, alla testimonianza del martirio di Cristo, cambiare passo, non scadere nell'organizzazione e nell'immobilismo, sono le esortazioni del Pontefice rivolte ai partecipanti all'Assemblea delle Pontifice e Opere Missionarie nella centenario di fondazione della Pontificia Unione Missionaria. Nella suo discorso il Papa ha ricordato i principi ispiratori di questa istituzione, nata dalla felice intuizione del Beato Paolo Manna, quindi ha messo l'accento sui tanti compiti dell'Unione, da quelli di natura culturale a quelli spirituali o di natura pratica, ma ha voluto ricordare che essa non è una realtà semplicemente clericale, piuttosto al servizio di tutti i fedeli e pastori sposati e consacrati per mantenere la Chiesa, quella universale e quelle particolari, sempre e dovunque in stato di missione. L'auspicio del Papa è che l'Unione Missionaria continua ad infiammare e ad illuminare i cuori sotto l'azione dello Spirito Santo, senza preoccuparsi solo della raccolta e distribuzione degli aiuti economici in favore di tanti bisognosi. Cuore del vostro impegno, è infatti detto Bergoglio, deve essere un generoso lavoro di formazione permanente alla missione, con l'intenzione di aiutare le Chiese di recente fondazione a trasmettere a quelle più antiche, spesso stanche ed appesantite dalla loro storia, l'ardore della fede giovane, la testimonianza della speranza cristiana, sostenuta dal coraggio ammirabile del martirio. Dobbiamo crescere in passione, evangelizzatrice. Io ho paura, confesso a voi, che la vostra opera rimanga molto organizzativa, perfettamente organizzativa, ma senza passione. E questo lo può fare anche una O in G. Voi non siete una O in G. La vostra unione senza passione non serve. Senza mistica non serve. E se dobbiamo sacrificare qualcosa, sacrifichiamo l'organizzazione, ma andiamo con la mistica dei santi. Questo ha bisogno oggi la vostra unione missionaria. Mistica dei santi e di martiri. E questo è il generoso lavoro di formazione permanente alla missione che dovete fare, che non è un corso soltanto di intellettualità, ma inserito in questa ondata di passione missionaria, di testimonianza martirale. Grazie. Grazie.